Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 134esima puntata di Eurotrack Simulator 2 Oggi siamo qui con questo nuovo... ...nagia Aspettate un attimo che c'è l'aero che sta passando, io non so... ...comunque, ecco qua, è un R440 con la cabina bassa Dobbiamo portarci questo piccolo container qua, 20 piedi e... 120 quintali di telefoni Qui il camion fa anche una cosa abbastanza bene Niente, partiamo subito, siamo qui come al solito a Linkoping e dobbiamo andare a Göteborg Quindi abbiamo circa 6-5 ore da fare Qui come sempre dobbiamo aspettare che c'è traffico Cavolo di sé, ma guardate un po' che coda che c'è Andiamo su... Qui non passiamo più, sarà meglio che mi infilo questo qui, se no... Ecco, perfetto L'intelligenza artificiale qui è pari a meno 1 Mi vede che mi infilo e mi viene contro Questa faccia il duello e ora mi viene contro l'ultimo, va bene Eh, guardate, è un robasso Eh, tipo, non so Tipo, dè... Come si chiama... Russo Russo, ucraino, quello è scritto lì in teoria Russo Con questo semi rimorchietto qui possiamo davvero fare quello che vogliamo Ci segue come sarà lungo 5 metri neanche Andiamo bene, andiamo bene Poi siamo leggeri Vediamo un pochino com'è dentro Scusate, devo mettere le cuffie un po' meglio, se no se le guardo in alto mi cadono Eh, più o meno, sì, dai, più o meno Sì, sì, è fatto, è fatto bene Ecco, qui adesso ce lo svincolo Come sempre lo svincolo ci fa perdere un sacco di tempo Ecco Ora siamo in autostrada, in teoria non dovremo più uscire fino a... Alla Eh, devo andare alla... Alla, alla... Stena line, per cui in teoria da... Al porto Questi camion qui, ragazzi, la Megamod Li uso con l'automatico perché con il manuale praticamente non ha lo settaggio giusto per il G27 Oppure non sono... non riesco a trovarcelo io il settaggio giusto Eh, per cui lo uso con l'automatico Almeno, vedrete, a 14 marce sono giuste Perché se ci mettiamo anche il... Il primino è giusto, insomma Però... Qui sul cambio del G27 non riesco a settarle Però abbiamo solo due retromarce Meglio di una, eh Però in realtà ce ne sono quattro Però... vabbè, dai Non ci lamentiamo troppo Qui c'è da fare sta... Ah no, dobbiamo farla rotonda Ah, la rotonda è su... Non so per chi di voi si ricorda che tipo Molte volte passiamo e andiamo a caricare dal di là qui all'incopi Mettiamo un po' gli EDC Oh, a 90 km orari Temperatura... Eh, l'acqua è un pochino bassina, eh Adesso comunque si alza Questo... non so se voi li sentite questi sound qui Io non ho una cosa che non riesco a capire OPS a volte registra gli overlay A volte no Dunque nel caso abbiate sentito Sound e telegram Per cui... Niente Fate finta di niente Perché è difficile mettere in silenzioso tutto Cioè a volte... Parla di tutto e di più Eh... Una delle... Una delle ultime volte registravo Mi è venuto... Eh... Avast che diceva Guardate base di virus di Ava Se è stato aggiornato Eh... Tipo mettere tutto in silenzioso Mi dimentico sempre Insomma Poi quando sono di fretta Tipo adesso perché Sono... Questo video l'ho registrato ieri Che erano le due Eh... Lo metto a caricare Poi devo andare via Poi torno Devo registrare farming Mettere a caricare farming E poi non torno più Per cui è un problema Guardate questo scanetto qua Bello il P Il PPC No Il P non però P e basta Se mi rimorco a corto Che ci abbiamo Mamma mia Facciamo ridere Guardate Beh dai Almeno c'è un basso consumo Di ruoti Cabina Abbiamo una cabina Con la base Dai come c'è Schmitz 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 trailer Ora... Sì Vi avevo detto Ah Tempo fa Che non vi avrei più Fatto vedere Questa strada Da Linkoping A scendere Comunque tutte le strade Da Linkoping A scendere Perché è là Tipo Vedo sulla destra Che un pezzo è gialla Poi non ne vedo più Annalzare la Promod Che cambia le strade Per cui alcuni pezzi Te li fai inesplorati Tipo E... E vabbè Cosa vi dicevo Che non ve la facevo più vedere Oramai penso anche voi Lo conoscete a memoria Perché quasi in tutti i video Partiamo da Linkoping E facciamo sta benedetta strada Oramai sta curva La conosco a memoria Tutta strada Solo che Beh Di lì parto E quindi Ok Tra l'altro ho fatto qualche nuovo cambio Adesso magari vi faccio anche vedere Allora Qui ci siamo arrivati Abbiamo questa serie 4 Che ve lo faccio vedere Poi lo proveremo So che non è il massimo Perché in teoria Questo grifone Non ci andrebbe Perché è più nuovo Rispetto alla serie 4 Ma vabbè dai Poi ho fatto Questo 730 Che forse avete visto Che dovrebbe essere Il bluestream Questo 4 e 10 La Mega Model 560 Che l'avete visto Questo che abbiamo adesso E questo qui Che l'ho fatto tipo Da trasporti eccezionali Guardate Guardate quanti lampeggianti Che ci ho messo C'è una roba impressionante Perché ZOO Cioè 150 Fosse ZOO 105 Sarebbe meglio Però vabbè Guardate L'ho tappato Di lampeggianti In più Queste qui Sono tipo frecce Perché Avevo cominciato Facendo un camion Normale E Solo che poi Il viaggio è andato Che Cioè Avevo un camion normale Ci ho fatto pochissimi chilometri Perché poi Non riuscivo ad andare Con quel camion Cioè Carichi troppo pesati È un casino Ho portato un 500 quintali Di Carico Di Camion Da cava Dessi Da cava Scusate Quelle specie Di perlini Da Da galleria Ecco Uno di quelli Ho portato E quindi Niente Niente Tra l'altro Oggi Mercoledì Mercoledì Quindi 14 14 Tra un po' Tra un po' Usciranno Gli scarnia Di L La V2.0 E tra Circa 14 Un mese 10 giorni Quindi tra circa 40 giorni Uscirà Farmi il simulator 17 Che io Non è che Non vedo Sì Non vedo l'ora Perché Adesso abbiamo trovato Una buona mappa Per il 15 Che è vero È fatta bene Secondo me Anche A livelli più alti Della ferma La ferma limousine Che io reputo Una delle top map Per il 15 E a parte che adesso Qui per il 15 Ne sono tante altre Fatte bene Tipo La La Landwork Canal È fatta bene Anche se è molto Molto grande È anche un po' Forse Non tanto Però forse Un po' troppo Dispersiva Però Voglio provare Il nuovo gioco Adesso due anni Basta Già ero scelto Di così iniziare Questa serie O continuare Sulla serie Fan Farla diventare Una serie Chiusa E Continuarla Solo noi Ma Non lo so Alla fine Poi abbiamo deciso Tra l'altro Uno di voi Mi ha commentato Dicendomi Noi avevamo già scelta Quella mappa Però uno di voi Mi ha detto Sì potresti fare Perché ho tolto 13 Non va più Oh no Forse sai che stava scalando E glielo salto io Non so Vabbè Vabbè Quindi cosa devo fare Io stare di qua Ok Perché a volte tipo Si spostano Le carreggiate Sulla promoda Oramai devo Togliarmi questa abitudine Di spostarmi E altra colfia Perché Sono fatti bene I sfiguri E che se mi rimarchio A quello Non te ne andare Voglio vedere Un bel se mi rimarchio Faria Holland Mi dicono Della regia Guarda avanti abbiamo Certo tipo Pugnano Giganti Io così quasi Li tolgo Perché Ce ne sono troppi Per i miei gusti Sì qui Qui c'è sempre Il solito incidente Tipo adesso Se tolto le dc Io non chiedo Sembra che si spenga Il camion Perché schiaccio Permeterlo Per toglierlo Non si riattiva più Anzi Facciamo un pochino Così Non va Non va Non so Non so Non ce n'è troppo Anche in americana Qui Cade Cade Penso Non lo so Vedete Guardate come va forte Forse sapete Che ancora No Quello l'aveva preso Un'altra strada Quello che avevamo Peccato a Linkoping Linkoping Perché tipo Questo qui Non ho passo Non mai che ci sono Tipo Dovrebbe pronunciarsi Così Da quando Ne so Linkoping Qui io Me la rallento Bella Piano Perché so Che c'è il veloc Ormai Già Proprio Conosco tutti i segreti Di sto gioco Di sta strada Vedete C'è il veloc 60 km orario Ora possiamo Riandare In questo caso Ci farei Scalare una marcia Sarebbe Bello Se la vedesse Lui Ma Se non lo fai Lui lo farei Io Cioè Poi alla fine Il cambio automatico Se la vede lui Voi potete intervenire Ma comunque Praticamente Il lavoro Lo svolge Perfettamente Anche da solo Invece Qui sull'aerotrack No Nella maggior parte Dovete voi O cambiare O scalare Perché A volte Se hai 90 all'ora Ti rimani in undicesima A volte A volte Invece Non ti scala Se in una salita Non ti scala Però comunque Guarda Questo Fare questa cosa Che sto facendo io Ora Non è illegale Superare sulla destra Molti dicono Ah Superare sulla destra E legale Qui e lì e là Non è vero Perché se andate a vedere Sul codice della strada Vi dicono che A destra Si può Soppassare Basta che Cioè Praticamente Se hai Quello che occupa La secorsia A sinistra Che La occupa Senza un motivo Praticamente A destra Ti puoi mettere Basta che non fai Tu sei sinistra Basta che non fai Destra Sinistra Tu se sei Sulla tua corsia Di destra Puoi starci Cioè Nessuno ti vieta Di sorpassarlo Anzi Se succede qualcosa È colpa sua Non tua Cioè Ti taglia la strada Di là Oppure Succede qualcosa È A torto Lui Perchè Perchè Adesso Scusate Facendo un po' Di conclusione Innovate Certo che sto qua Col volvo Che fa nelle salite Proprio Abbiamo già detto Tutto Malmo Gutberg Gutberg o Gotte Io dove l'altro giorno C'era tipo quello Bloccato Con La moto Bisogna ricordare Rallenta 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 Ecco Ved Menomale che io me le ricordo Ci sono passato ieri Menomale che mi è ritornato in mente Perchè sennò qui Non so se riuscire Beh dai 120 quintali Lì Di ferro Più o meno Sai che questo qui davanti È un camera Non si vede niente Vediamo se in questo modo No Si capisce Sì 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 Fa meno di nuovo Che vi dicevo L'abbiamo fatta ieri Stastrata Ieri Sì Mi sembra ieri Eh Ieri O l'altro ieri Non lo so No Mi sembra Sì Vedete Ad 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 Non ha l'ad Io sapevo avesse Renault Premio Mi sembra Un merce Un mercede Sì Sì Un mercede Sì Boh Comunque Una Una Degli acquisti Che mi pento Cioè Che Penso Non mi pentirò mai Di aver fatto E penso Rimarrà Uno dei miei Migliori acquisti Che ho fatto mai È il trackier Cioè Stupendo Cioè Guarda Posso fare quello che voglio Guardarmi in giro Posso anche fare movimenti Che non sono contemplati Con il mouse Tipo Questo Oppure Questo Alzarmi Abbassarmi No perché sono seduto Nella sedia Quindi Abbassiamo la sedia Vediamo Opla Aspetta che devo tornare Su Adesso Andiamo di là Guarda che bello Con lo specchiettino Lì Come hai fatto bene Lo vorrei sul mio scanio Di ragione Il mio scanio Poi Ultimamente Io non ho più un camion Cioè Io viaggio Provo tanti camion Non ho più il mio fisso E secondo me È anche più divertente Provare ogni volta Un camion nuovo Penso che Scusate Ah una cosa A proposito che ho sentito Adesso che è arrivato Un commento Io ragazzi Perdonatemi Ma ieri Non mi faceva rispondere Assolutamente I vostri commenti Quindi io non so Nel caso vi abbia risposto Nel caso non vi abbia risposto Mi dispiace Scrivetemi Qui sotto Se riesco Io faccio rispondi Ho provato A aggiornare la pagina A fare di tutto Mi da pubblicazione Del commento Non ho riuscito E non posso rispondere Praticamente Amen Perdonate E niente Stavo dicendo un'altra cosa Ma non me la ricordo più Pazienza Norma Cieco Questo qui è cieco Repubblica cieca Come la SCS software Ah? Davvero I fari sopra Quando luce Su tutto gioco Ma va? Non lo sapevo Ah Forse vi dicevo Di quello specchiettino Lì che ho fatto bene Non lo so Guardate che vai Alla dashboard Che c'è a questo Cioè Dire il vero I fari No Però Il resto È fatto abbastanza bene Una cosa che finora Non sono ancora riuscito A fare bene Secondo me È Lo stemma Qui Dello Scania Perché lo stemma Dello Scania Qui sembra Una specie di adesivo Diciamo così Invece in realtà È proprio Incazzato nel volante No ma ci muoviamo o no Andiamo su Si è degnato Si può poi un camion che parte in prima Non si è mai visto Però lui ci parte Invece Ecco per esempio Adesso mi sposto di qua E posso sorpassarlo Sulla destra Adesso Se io mi ributta Vabbè non adesso Tipo adesso Facciamo così Io faccio così Questo è legale Non si può fare Però io L'ho fatto Per farvelo vedere Capite Iniziamo a rallentare Che poi noi dobbiamo girare Stiamo arrivando troppo Bisogna un po' di ferro motore Anche Intanto arrivo qua Lo so che è rosso Perché c'è quello lì Che non si muove Aspetta che arriva il traffico Dalla Cina Cioè davvero Non c'era nessuno È stato fermo Il mancio L'abbiamo dietro Figuriamoci Sicuramente Riusciamo Vedete Bisogna guardare Quando viene rosso l'altro Subito partire Perché è il tempo Che voi passate la linea Per cui Se volete fare una cosa bene Sì adesso magari così Ma guardali loro Cioè va bene Hai la precedenza Però ce l'ho davanti io Non puoi venirmi contro così Che poi Così ti dovrebbe dare Cioè hai anche tu Non hai il 100% di ragione Anche se io In realtà ti ho tagliato la strada Ma tu non hai il 100% di ragione Perché Praticamente il 100% di ragione Non ce l'hai praticamente mai Perché ti trovano sempre Qualche scusa È tipo Anche il fatto Per avere Anche il 100% Della ragione Devi aver fatto Di tutto Per fermarti Cioè Per evitarli incidenti Insomma E quindi Quello lì Mi è venuto contro Cioè poteva fermarsi Quando e come volessi Dove cado lo vado Io con questi rimorchietti Non sono in grado Di fare tromarcia Perché poi Quelli più corti Sono ancora più complicate Di quelli Cioè più è corto Più è difficile Perché vi basta sbagliare Cioè Hai un Un margine di errore Molto più Molto minore Con un semirimorchio Corto Invece forse Più lungo Hai Più Margine di errore Perché Fa in tempo a riprenderti Prima che vada tutto storto Insomma E come siamo messi a video Sapete che io non lo so 20 minuti 20 minuti Io direi che Possiamo fermarci qua Io guardo Per sfizio Il prossimo viaggio Eh Eh Queste carotine Hm No ma con un 440 Cabina basa Non Non ho voglia di portare Quello fine Svez In 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 E porca miseria Come si chiama Island 320 km Ci abbiamo Su questo camietto Uh Vediamo come possiamo Customizzarlo Che schifo Che schifo Cos'è Questo qui Un 30 30 piedi Ma che schifo Dammi questo Aspettate però 17 tonnellate Ecco Una cosa che Non ha senso 14 tonnellate 17 Cioè mi toglie 30 quintali Per cosa Per un Per un Per un Container Un pochino Più corto Cioè non ha senso Proprio sta cosa Tra l'altro Io sto facendo Una retromarcia Che Come avevo impostato Il tracchiere È un po' Sì Guarda Perché ogni camion Proprio meno A sua misura Quelli di rjl Devi tenerti molto in là Perché poi Ti ingannano a vista Questi Vabbè non si capisce Dove abbiano Vedete io Molte volte Lo aggancio da fuori Non perché Voi sapete che io Cerco sempre di simulare Quasi il più possibile La realtà Però Cioè Non è reale Che io vado indietro Metti anche che Andassi indietro Ai 5 all'ora O anche i 10 Mai 30 all'ora Si deve agganciare Si ferma il camion Non ci passa sotto Quindi È uno schifo Fatto Fatto da loro Questo Posso andare ancora un po' in gus Fermiamo Ci va Vediamo un pochettino Come l'abbiamo messo Vabbè Facciamo Facciamo L'acquostiamo bene A parte che Accostarlo più di così Sotto Sotto Non ci passa Beh Cioè Guardate la differenza Se mi rimarco originale Se mi rimarco moda Ok Ma a parte questi piccoli Dettagli Però Si vede che è molto fatto meglio Molto fatto meglio Ecco Una cosa che io Ci ho fatto caso ultimamente Voi ci avete mai fatto caso A questo sound qua Che hanno questi Del traffico Questo qua Ok Tipo È Vuoto È sound Del vuoto Loud pipe E va bene Niente ragazzi Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Da Adan è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti